E' stata presentata a dicembre la BMW i8 Roadster Limelight Edition, un esemplare unico dal design futuristico nel colore esclusivo e interni in Alcantara. La presentazione è avvenuta nella cornice dell'Alcantara Concept Store di Milano, una personalizzazione nata dalla stretta collaborazione tra BMW Italia e il centro stile di Alcantara e che unisce design, esclusività e sostenibilità. Per la one-off è stato utilizzato infatti Alcantara, materiali al 100% carbon neutral. Ogni metro quadrato prodotto da Alcantara ha un bilancio netto di emissioni di CO2 pari a zero. L'azienda è stata la prima realtà industriale italiana, e tra le prime nel mondo, a conseguire nel 2009 lo status di carbon neutrality, certificato da l'ente TUF Sud, status riconfermato nel 2019 per il decimo anno consecutivo. Alcantara veste i sedilli, la plancia, i pannelli porta e il volante, ora in nero con impunture a contrasto, ora alternando nero e color lime in nuance, con la livrea esterna con forature laser che creano un disegno ispirato all'elica del logo BMW, replicato in modo armonico e seguendo le linee sinuose degli interni. La BMW i8 Roadster è una due posti con capote a comando elettrico, tempo di apertura 15 secondi, anche in movimento fino a 50 km all'ora, combina la sensazione di libertà delle vetture cabrio alla mobilità localmente priva di emissioni, con prestazioni da sportiva. La potenza prodotta dal sistema ibrido plug-in, composto da un motore elettrico e da un motore termico che agiscono insieme è di 275 kW. La nuova BMW i8 Roadster accelera da 0 a 100 km all'ora in 4,6 secondi, con un consumo combinato di carburante, calcolato nel ciclo di prova UE per veicoli ibridi plug-in, di 2,1 litri di carburante e 14,5 kWh di energia elettrica per 100 km. Grazie.